la cucina povera è la protagonista di questa video ricetta prepariamo una frittata di spaghetti olive e amici vediamo come fare mettiamo una pentola di acqua sul fuoco e non appena bolle caliamo gli spaghetti per una cottura al dente in una padellina mettiamo dell'abbondante olio extravergine d'oliva e non appena caldo aggiungiamo le alici sott'olio dopo qualche istante le spezzettiamo con l'aiuto di una forchetta fino a scioglierle nell'olio stesso questa operazione la facciamo a fiamma bassa ora uniamo le olive e lasciamo insaporire per qualche minuto dopodiché spegniamo la fiamma scoliamo gli spaghetti li versiamo in una bowl di vetro dove verseremo anche il condimento mescoliamo bene a lungo affinché l'olio con le alici insaporisca gli spaghetti con della carta da cucina puliamo la padella che abbiamo già usato in questo modo la rimettiamo sul fuoco con un goccio di olio extravergine d'oliva versiamo una parte degli spaghetti e la disponiamo bene a coprire tutta la superficie fumiamo le olive e terminiamo gli spaghetti copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fiamma vivace per 5 minuti ripetiamo questa operazione anche per l'altro lato lasciamo raffreddare la frittata prima di servirla ed ecco pronta una gustosa frittata di spaghetti olive e alici grazie a tutti grazie a tutti